Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro La sfilata di Laura Biagiotti che si è tenuta a Roma il 12 settembre hanno spiccato per eleganza e affinità E non solo per gli abiti scelti.Una coppia davvero innamorata è sempre più unita quella composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro I due sono stati invitati alla sfilata di Laura Biagiotti nella splendida Cornice di Piazza Campidoglio La sfilata primavera, estate, 2023 della celebra Maison è stato un appuntamento imperdibile per molti VIP e personaggi del mondo dello showbiz Tornare in Piazza del Campidoglio, con un format innovativo, mostra che la moda, come Roma, ruota attorno a qualcosa che supera il tempo e le generazioni, li plasma e li ricrea in visioni inedite Ha dichiarato la vigna Biagiotti alla Repubblica.Il look di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro Un'occasione per ammirare la moda, ma anche per sfoggiarla. Così l'avranno pensata in molti, tra i presenti alla sfilata del gruppo Biagiotti che è particolarmente legato alla capitale Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro perfettamente abbinati, non sono passati inosservati L'influencer siciliana in queste ultime ore ha condiviso una clip sul suo profilo Instagram, in cui appare assieme al compagno Paolo nella storica piazza romana Nelle immagini si vede Clizia con un abito lungo e nero che le scopre sensualmente la schiena, abbellito dalle maniche lunghe in pizzo Un look raffinato avvalorato dall'acconciatura e dalla lunga coda del vestito che l'accompagna mentre raggiunge il suo amato Il breve video infatti mostra l'ex Jeffina Vip che va incontro a Paolo Ciavarro che l'attende con un abito altrettanto elegante, di colore nero anch'esso Il volto noto di Forum indossa un completo con giacca e pantaloni, semplice ma raffinato Entrambi in nero.Una coppia ben assemblata in tutto per tutto, visto che i due non smettono di urlare il proprio amore al mondo, sul social e attraverso le tenere dolci effusioni che si scambiano in pubblico Tantissimi like e i messaggi arrivati al margine del post. Molti hanno sottolineato la bellezza della coppia, con cuoricini rossi e commenti affettuosi CIT. In nero diventiamo pericolosi. E molto elegante aggiungerei è la didascalia scelta da Clizia per descrivere il momento L'evento racchiude oltre alla moda, l'espressione dell'arte, della cultura e del golf Gli amatissimi Clizia e Paolo hanno senz'altro fatto centro. Cosa ne pensate? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti